Tennis Point 39 in Viale Colonnello Gagliano a Verona. 230 metri quadrati dedicati al tennis e al paddle con abbigliamento, scarpe e racchette di tutte le marche per uomo, donna e bambino dei 5 anni. Anche servizio in cordatura con tecnici certificati IRSA. Tennis Point 39.com, seguici sui nostri social.